i fratelli dello spazio voci dall'infinito attraverso vanda albano 2 giugno 1998 i fratelli dello spazio voi fratelli umani siete ancora irresponsabili e non conoscete anzi non volete conoscere quanto avviene al di fuori del vostro piccolo mondo che come un granello di sabbia paragonato alla grandiosità degli universi del cosmo dell'infinito potete immaginare o quantificare la grandezza della creazione può il vostro piccolo intuito arrivarci sapete rendervi conto di cosa veramente sia e della parte che svolgete in questa immensità no voi siete ignari di chi siete di cosa rappresentate e del compito da svolgere vi accontentate del vostro piccolo sapere senza indagare né tentare di scoprire ciò che più vi serve per procedere sapete di ricevere l'amore ed è per voi quasi un obbligo che vi venga donato senza né conquistarlo né dare niente in cambio lo ricevete e basta riflettete fratelli umani offrite qualcosa in cambio anche un piccolo pensiero amorevole rivolto a un altro fratello vi dà la possibilità di compiere un passo in avanti per contribuire all'espansione di questo sentire che allargandosi si innalza verso l'infinito siate fratelli in cammino non sostate passivamente rafforzate il vostro sapere e date spazio alla vostra coscienza detentrice di una lunga esperienza riguardo al vostro percorso evolutivo permettete così l'avvicendarsi di una evoluzione rispetto all'altra consapevoli e responsabili prendete coscienza del nostro dire che serve per risvegliare in voi il senso di responsabilità e darvi un contributo per unirvi con altri sapere salve dai vostri fratelli cosmici